Sempre andando veloci verso questa lettura, io adesso chiamerei uno dei paranesi di sangue che è un migrante per il mondo molto lontano, è uno dei paranesi importanti di cui noi andiamo un re che è Giuseppe Della Fida che è il fiore di Nicodemo Paranese Doc e Giuseppe Della Fida diciamo è una nostra gloria non locale, ovviamente nazionale, ovvietano ma noi lo rendichiamo almeno un pezzo. Io veramente solo un attimo e l'unico titolo che ho per parlare di questo libro è qui a Paranano essere figlio di Nicco. Io ho scoperto questo libro praticamente in questi ultimi giorni, ho scoperto anche che l'assunta che è l'altra nipote di Pompeo, Giotti, oltre appunto il nipote che è stato di Gordaro che conosco invece da tanti anni ma non immaginavo che anche lei avesse, e la banda, ecco che non immaginavo che avessero delle origini parane, quindi è stata questa scoperta. È nato tutto un momento per caso e poi ho incontrato appunto Vittorio Tarparelli e mi ha detto senti appunto sa qua presentiamo a Parano un libro interessante, di qualche cosa presentiamo. E allora mi ha detto guarda è la storia appunto di Pompeo Ciolfi che mi ha raccontato questa storia, io adesso non la richiamo perché Aldo l'ha raccontata nei dettagli e in maniera stupenda e mi ha colpito perché veramente immaginate questa persona che all'inizio del novecento decide insieme al padre, forse insieme ad uno zio, di partire, arrivare dall'altra parte del mondo, oggi tutto è più unito per cui magari andare in Brasile può essere quasi una cosa da fare nell'arco di una settimana, ma all'inizio del novecento non era affatto così, significava veramente scoprire un altro, un altro mondo. Arrivare lì, portarsi dietro la propria cultura, appunto i propri paesaggi, i propri abitudini e poi ecco decidere di ritornare dopo un'esperienza che ha avuto dei caratteri immagino felici, di incontro con la moglie per esempio, ma anche dei caratteri evidentemente non soddisfacenti, oppure questa nostalgia per Parano, per Orvieto, comunque per questa zona dell'unica l'ha fatto decidere di ritornare. E qui voglio ringraziare sia Carlo che Aldo, che poi sono stati i curatori di questo libro, perché effettivamente, come ha detto anche Vittorio all'inizio, esiste quella che noi chiamiamo la storia, ma è un qualcosa di astratto. Poi la storia è fatta da tante piccole storie personale. La storia non è altro che la somma. Poi le somme, lo so che tutti non possono aver pesato nella stessa maniera, Giolitti non ha pesato nella stessa maniera del nostro Pompeo, ma tutti e due hanno fatto la storia. La storia è questo. E quindi recuperare questa consapevolezza mi sembra davvero importante e questo libricino credo che ci aiuti a comprendere questo. E poi finisco perché sono sicuro, come ha detto Aldo, che lui è tornato per la nostalgia del castello. No, 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 no. Grazie a tutti.